La parola a te, tra l'altro oggi ho anche l'occasione per tesserarsi, mi dico parte di questa associazione, ma chi non è presente oggi, come ti fai? Innanzitutto per tesserarsi è molto semplice, basta andare nel nostro sito che è www.quattrizambedipiazza.org e lì ci sono tutti gli nostri indirizzi per poterci contattare e quindi per tesserarsi. Invece vorrei fare un piccolo riassunto sul motivo perché noi ci teniamo molto alle aree verdi per gli animali per la conquista della spiaggia. L'idea è nata soprattutto dalla mia moglie che è la Presidente Vitali Roberta, che facendo delle vasche a quattro zampe, cioè le classiche vasche che si prendevano ogni tempo qui in piazza, e quindi abbiamo collegato più persone e molti più cani. In quanto abbiamo fatto l'aperitivo, cioè l'aperitivo, tra noi, i nostri cani, avevamo 40 cani, circa 100 persone, e per lì abbiamo sviluppato, quindi io ho identificato l'idea di creare queste associazioni per la conquista di determinati obiettivi. Grazie. Grazie.